Non valgono nulla, scusate. Tranne quello di Rocca Monfina ma è stato già preso. Quello lì è già preso. Allora, eh, dici. Allora, intanto quelli liberi si mettono così, giusto per avere così una idea generale. Quanto sono belli quelli di Rocca Monfina. Poi mettete un cartello con l'età. L'età va bene, noi mo ci adeguiamo. Va bene tutto, l'età è una convenzione. Sì, quando voglio vedere, parlaremo lei. Allora, il primo pezzo è dedicato a voi. Ah, da, tacca. Allora, il primo pezzo è stato già. Allora, il primo pezzo è stato già. Allora, il primo pezzo è stato già. Oh, faccio la figlia da me, oh, che non la faccio con te, oh, faccio la figlia da me, che non la faccio con te, mi raccorda a me, non un potere, tu non portami, non la faccio con te, oh, faccio la figlia da me, mi raccorda a me, oh, che non la faccio con te, oh, faccio la figlia da me, non la faccio con te, oh, faccio la figlia da me, 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 oh, fac Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.